Intelligente rapporto tra pubblico e privato accade a Manduria per valorizzare un'area periferica e donare alla città dei Messapi un polmone verde. L'iniziativa è del gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna con oltre 500 punti vendita. Il parco è esempio di rigenerazione urbana e adecente al superstore Famila del gruppo. Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro. Onorato per quello che ha fatto il gruppo Famila per questo nuovo impianto dedicato a tutti, a grande e piccole, soprattutto a piccole, però sicuramente è una bella realtà, un bel impianto e quindi grazie ancora a loro. Con un investimento di circa 400 mila euro il parco Famila è stato realizzato con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Abbiamo scelto Manduria perché avevamo degli spazi non utilizzati e che dovevano essere riqualificati e quindi ci è venuta in mente l'idea di poter riutilizzare questi spazi e donarli alla cittadinanza. Prevista un'area picnic con panchine e tavoli in plastica riciclata, una pista da running con pavimentazione permeabile e drenante, una zona a sgambamento anche dei nostri migliori amici, i cani, un'area ludica inclusiva e accessibile. Giochi pensati e dedicati ai bambini, abili e portatori di handicap e attrezzi per il workout. Per la pavimentazione sono stati utilizzati dei materiali a base calce completamente naturali e infatti tutti i viali, anche la pista da running, sono permeabili al 100%. Non sono state realizzate superfici impermeabili, ad eccezione dell'area giochi dove ci sono invece dei tappetini antitrauma. Risorsa per i cittadini, risorsa per gli utenti. Fare la spesa deve diventare soprattutto un modo piacevole, lasciare i bambini al parco, far sgambettare i propri cagnolini non è poco e quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto fin adesso. Grazie a tutti.